Ciao a tutti amici di Mi Hand, siamo qui al BlackBerry Forum davanti al BlackBerry Z10 con il nuovo sistema operativo BlackBerry 10. Il terminale è un processore da 1.5 GHz Qualcomm Dual Core, ha 16 GB di memoria e 2 GB di RAM. La batteria è un po' al punto dolente del telefono ed è un'unità da 1800 mAh. Diamo un'occhiata ora al sistema operativo che come vedete è molto molto fluido, anche il multitasking è fatto molto ma molto bene. Come vediamo le foto sono molto rumorose, tendente al chiaro, nonostante l'unità da 8 megapixel con flash LED. Apriamo un secondo il browser che è rimasto molto fluido rispetto al prototipo, anche durante il caricamento, gestisce anche diverse pagine con le schede. Per quanto riguarda le app, il market è arrivato a circa 120.000 applicazioni e avendone provata qualcuna vi possiamo dire che ci hanno davvero stupito perché sono ben fatte anche qualitativamente. Per rimanere sempre aggiornati su telefoni e smartphone vi invitiamo ad iscrivervi alla fan page di Facebook Mi End Technology.